Si è spento a 91 anni nella sua amata Franca Villa al Mare, l'avvocato Marcello Russo, una delle figure più rilevanti nella vita della regione Abruzzo a partire dagli anni 70. Di formazione politico-culturale socialista, Marcello Russo è stato uno dei padri del regionalismo in Abruzzo, presidente del Consiglio regionale nella seconda legislatura dal 1975 al 1977, fu l'autore del primo statuto della regione ed è rimasto una voce ascoltatissima da tutte le successive amministrazioni nei processi di riforma delle istituzioni regionali di Panatisi nel corso degli anni successivi. Avvocato di successo, specializzato nel diritto pubblico e amministrativo, ha esercitato davanti alle più alte magistrature ed è stato consulente di innumerevoli amministrazioni pubbliche. Forte il legame con la sua Franca Villa al Mare che lo portò anche a tentare la candidatura a sindaco e con la sua famiglia. Marcello Russo lascia la matamoglie Gabriella e i figli Michele, titolare dell'Agenzia di Comunicazione Mirus e Luisa, che ne ha raccolto l'impegno professionale e anche quello politico guardando alla prossima candidatura nelle comunali di Franca Villa. Esteso e sentito il cordoglio dal mondo politico e istituzionale, per il sindaco di Franca Villa Luciani si tratta di una perdita enorme. Per il primo cittadino di Pescara, Masci, era la buona politica. I funerali di Marcello Russo sono fissati per la giornata di domani, mercoledì 27 gennaio alle ore 11, nella chiesa di Santa Liberata a Franca Villa al Mare.